Il giudice deve sapere perché hai agito in quel modo. E io dovrò dare la mia opinione. No, non sono affari suoi. Ciao, amore. Ciao. Mio Dio, che cosa gli hai fatto? Niente, si è solo ribaltato con la barca. Avanti su, in bagno. Coraggio. Ma tu e tua madre fate così con tutti i naufraghi. Per me è la prima volta. Rilassati a seconda del movimento e lasciati il movimento. e lasciati trasportare. Che bello vedervi insieme tutti e tu. Ciao, bel faccino. Abbiamo un milione di viaggi da fare insieme. Ci conosciamo solo da stamattina. Perché perdere tempo? La vita è breve. In quel preciso momento non c'era niente al mondo che gli avrei potuto negare. Volevo passare tutto il tempo, ogni secondo della mia vita insieme a lui. Eppure, anche quando ero con lui, non mi bastava. portiamo Kate a fare un giro in barca, un giorno di questo. Oh, sì, stupendo. Il fatto è che sei tu! Sei tu che mi annoi! Sei tu! Che è successo? Sparisci, chiamo la polizia. Sparisci! A te non importa quello che facciamo insieme. È me che vuoi. E questo non è possibile. Devo capire come sono andate le cose. Soppolo... Allora... Soppolo... Grazie.